Dopo l'intervento della Commissione di esperti per fare il punto sullo stato attuale della procedura di dissesto del Comune di Acate, prende posizione in queste ore il Movimento Insieme, che per primo rileva che l'ente è indebitato per circa 3 milioni e mezzo di euro. Tutto questo, mentre per anni si è parlato di debiti ben più esosi. Naturalmente questo importo potrebbe lievitare solo se dovessero sopraggiungere nuovi crediti nascenti da sentenze giudiziarie che comunque avessero origine tra gli anni 2011-14. Quanto alla composizione di debito comunale, Insieme sottolinea che la metà, circa 1.800 euro, sono nati tra il 2013-14 a causa del forsennato ricorso alle anticipazioni di tesoreria presso la Banca Agricola da parte di esperti forestieri nominati dal Sindaco Raffo. Da sottolineare anche, per il Movimento Acatese, il penoso intervento dell'Assessore alle Finanze, il quale ha insinuato che, con causa del grave dissesto, è dovuto alla stabilizzazione degli ex articolisti. Quindi, senza il lavoro degli ex articolisti, il Comune di Acate può chiudere definitivamente. In chiusura, Insieme ha ringraziato per presente il Consiglio di Citra per aver voluto fortemente l'incontro con la Commissione degli Esperti e che, per la prima volta nella storia di Acate, hanno fornito chiaramente spiegazione sulle questioni finanziarie dell'Ente. . . . Grazie a tutti